Sveglia alle 7.30, colazione e poi seduti davanti al computer per seguire le lezioni da casa. È la scuola di oggi durante l'emergenza coronavirus. Una classe virtuale che studenti e insegnanti stanno vivendo giorno dopo giorno e naturalmente si è anche parlato nell'intervista dell'annoso problema riguardante i locali scolastici dell'ex liceo linguistico Kennedy. Piero Giunta ne ha discusso al suo microfono con il presidente regionale e vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi e dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Gaetano Curcio di Ispica, professore Maurizio François. Ascoltiamo. La prima domanda è ovvia, Prefide. Come procedono le lezioni a distanza? Grazie Piero per questa domanda e un saluto a tutti i radioascoltatori. Mi chiedevi come procedono le lezioni a distanza. Le lezioni a distanza procedono con le difficoltà che ormai sono note a tutti. Se abbiamo un'altissima percentuale di studenti che partecipano con la loro abnegazione e con tutti gli sforzi del caso, non possiamo nasconderci che c'è una parte di studenti che invece non partecipano. Vuoi per difficoltà che hanno nella connessione, nei device che utilizzano, vuoi anche perché non tutti sono dotati di quella buona volontà che il caso richiede. Non dobbiamo nasconderci che se lo sforzo di una partecipazione attiva durante le ore di lezione in presenza e di un certo tipo durante le attività a distanza richiede un ulteriore sforzo di concentrazione di volontà e purtroppo devo dire che c'è una parte di studenti che non sta interpretando in modo adeguato gli sforzi che la scuola sta facendo, gli sforzi che fanno i docenti, ma soprattutto anche gli sforzi che fanno gli studenti. Certo, immaginare che tutto poteva evolversi con le stesse dinamiche e caratteristiche delle lezioni a presenza in presenza ce ne voleva. Già sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà e qualche elemento da dovere poi recuperare in seguito. I ragazzi chiusi in casa davanti ad un computer e i docenti dall'altra parte dello schermo, manca il contatto, lo sguardo, il calore umano che si vive all'interno della classe. La domanda è questa, in questo momento di emergenza la scuola rappresenta un punto di riferimento per gli studenti? Piero, mi chiedi se la scuola rappresenta un punto di riferimento per gli studenti in questo momento. Io penso che la scuola debba sempre rappresentare un punto di riferimento fin quando gli studenti sono studenti. Cioè la scuola è quell'ente di formazione che garantisce loro una preparazione che può meglio farli affrontare tutte le difficoltà del mondo. Noi adesso stiamo vivendo una grandissima difficoltà e la scuola dovrebbe rappresentare per i ragazzi quell'aggancio a quel mondo reale che poi permetterà loro di poter convivere con tutte le difficoltà che verranno sicuramente e che permetterà loro di meglio attrezzarsi per poter gestire con la famiglia le difficoltà che tutti noi avremo nel riprendere un ciclo normale di vita. Lei mi diceva, Preside, che sono stati consegnati con la protezione civile i primi dei WIF alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Questo è un segno che la scuola è vicina in questo momento alle famiglie in difficoltà? Sì, Piero, stiamo iniziando a consegnare i primi device. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo comprato dei portatili, quindi non dei tablet, ma proprio dei veri e propri PC, in modo tale che chi ha fatto richiesta potesse avere questo strumento per poi dopo riconsegnarlo a scuola e avere quindi una dotazione utile per i ragazzi nel proseguo e nella ordinarietà. Attraverso la protezione civile in queste ore probabilmente stanno già consegnando i primi computer. Certo, non ne abbiamo potuto comprarne tanti, le risorse erano limitate, noi abbiamo avuto a disposizione un budget che ci ha consentito di comprare 27 portatili con il budget ministeriale, ne compreremo altri 7 o 8 con il budget che ci assegna l'assessorato regionale. In questo momento le istanze delle famiglie sono state 26, quindi abbiamo coperto tutte le richieste, ho riaperto l'avviso per poter eventualmente consegnare gli altri 9 computer ad altre istanze che magari qualcuno distratto non ha fatto caso a questo sforzo che stiamo facendo. Considera Piero che in meno di 10 giorni siamo riusciti a comprare, ad avere, a collaudare e a consegnare i portatili. Questa secondo me è veramente un'impresa importante. Noi siamo vicino alle famiglie, noi siamo vicino agli studenti, noi siamo al lavoro, continueremo a lavorare. Mi permetto però di poter aggiungere un'altra cosa che credo sia utile da dire. Come debba essere interpretata questo momento di didattica a distanza? Allora l'interpretazione di questo momento è che si svolga con la massima serietà, con la massima serietà da parte degli studenti perché sarà oggetto di valutazione. Lo sforzo dei ragazzi sarà valutato in sede di scrutini finali, noi attendiamo le ordinanze del Ministero che disciplineranno come concluderemo l'anno. Io allora invito i ragazzi, gli studenti a partecipare in modo attivo e proficuo a queste attività che si stanno svolgendo. Un saluto a tutte le famiglie, noi siamo sempre a disposizione. Per qualsiasi necessità possono contattare, c'è un numero di cellulare dedicato, possono contattarci via mail oppure via telefono. Noi vediamo come poter risolvere i problemi dei nostri studenti. Presidente, non la lascio mica così, mi risponda all'ultima domanda. Parliamo dei locali scolastici dell'ex liceo linguistico Kennedy. Sindra vede uno spiraglio. Il sindaco, Pierenzo Muraglie, le ha telefonato e le ha manifestato la disponibilità dell'amministrazione comunale ispicese alla concessione dei locali. Una buona notizia direi. Lei cosa dice? Piero, grazie per questa ulteriore domanda sui locali dell'ex liceo linguistico Kennedy, i locali dell'antenna. Faccio chiarezza, l'Istituto Curcio chiede questi locali da qualche anno. Non da oggi, non da ieri, ma almeno da cinque anni perché noi abbiamo sempre fatto delle proposte all'amministrazione comunale che è l'unica nel territorio comunale a possedere locali scolastici idonei per poter meglio allocare le classi dell'Istituto Curcio, con particolare riferimento all'Istituto Professionale Alberghiero, in prima battuta. Perché sarà bontà dell'azione didattica del personale docente, ne sono certo di questo. Però l'Istituto Curcio gode di ottima salute nelle iscrizioni, tutti gli anni abbiamo un riscontro positivo e ogni anno cerchiamo di venire incontro alle esigenze degli alunni con le aule che abbiamo. Già da due anni c'è un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, forse anche di più, per poter avere questi locali che l'amministrazione comunale di Ispica detiene e che di fatto non utilizza. Come qualcuno ha notato io ho fatto due interventi un po' polemici su Facebook perché ho capito che forse Facebook attrae l'attenzione più di ogni altra richiesta formale indirizzata alle amministrazioni di riferimento e immediatamente mi ha chiamato il sindaco per telefono rassicurandomi sulla volontà di predisporre gli atti utili per cedere i locali dell'antenna cosiddetti all'amministrazione provinciale. Nel contempo anche l'amministrazione provinciale so che ha scritto dando la massima disponibilità a prendere questi locali perché i tempi tecnici per poterli mettere in uso non è che appena si hanno le chiavi immediatamente dopo possono entrare gli studenti. Quest'azione è una pianificazione che va fatta con mesi di anticipo rispetto all'avvio dell'anno scolastico ecco perché ho ritenuto necessario diciamo spunzecchiare l'amministrazione comunale con questi due post anche perché so che le giunte sono state svolte una l'ultima lotto di aprile quindi vero è che il sindaco Murali mi ha telefonato e mi ha rassicurato dicendomi che alla prossima riunione utile di giunta predisporrà gli atti altrettanto vero è però Piero che io fino a quando non vedo la delibera scritta io non mi rassicuro nel senso io mi organizzo e organizzo diciamo l'attività didattica con altre soluzioni non posso certo aspettare i tempi delle amministrazioni pubbliche eppure siamo tutti un'amministrazione pubblica e allora io ritengo che l'emergenza che ci ha fatto in questo momento accelerare le azioni della pubblica amministrazione debbano essere invece un elemento continuo e comune a tutte le amministrazioni pubbliche anche in tempi ordinari mi auguro che l'amministrazione comunale venga incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie non certo né del dirigente scolastico né del personale perché noi ci attrezzeremo di conseguenza e mi auguro che questa telefonata chiarificatrice di questo equivoco da parte del sindaco muraglie possa trovare piena corrispondenza con gli atti delle amministrazioni in giunta e quindi poter avere quest'atto deliberativo per mettere in attività tutte le necessarie azioni conseguenziali cioè la verifica degli impianti andare a vedere quindi come allocare diciamo i banchi, sede, tutto ciò che è necessario affinché al primo di settembre anche questi locali possono essere usufruiti dagli studenti dell'istituto Curcio altrimenti ci attrezzeremo in maniera diversa grazie ancora Piero ringrazio Maurizio Franzò, Piero Giunta per Radiodimensione Musica grazie a tutti